Sono Giulio Bartolomei, lavoro all'interno del gruppo Finelco, che comprende Radio Monte Carlo, 105 e Verge Radio. Ho iniziato a lavorare qui dentro in veste di ufficio stampa, dunque mi sono occupato di tutto ciò che è la comunicazione interna e esterna della radio, di tutte e tre le emittenti. Mi sono occupato dunque di stesure di comunicati stampa, delle iniziative speciali della radio con altre aziende esterne e tutto ciò che sono le attività degli speaker, dei programmi e delle radio. Il mio percorso è poi proseguito con il mio attuale impiego, che è quello di autore e redattore all'interno della redazione programmi di Radio Monte Carlo. Mi occupo dunque di tutto ciò che riguarda i contenuti creativi e editoriali dei programmi, della stesura dei pezzi, della scrittura dei programmi, della raccolta delle notizie che devono essere sempre in linea con la linea editoriale della radio e dei programmi dei singoli speaker. Un altro aspetto del mio lavoro è quello dell'assistenza diretta durante i programmi, dunque mi occupo che tutto il programma si svolga in maniera corretta rispettando il clock che mi viene fornito dall'ufficio musica e che gli interventi vengano rispettati da parte dello speaker. Un'esperienza fondamentale è stato il fatto che appena sono entrato qui dentro mi è stato affidato completamente in mano un programma totalmente nuovo, nello specifico quello di K-Rush, Case in the Air. Ho dunque avuto la possibilità di costruire io il programma insieme all'ufficio musica e alla direzione e alla speaker stessa e ho avuto modo di sperimentare sia la mia creatività sia la possibilità proprio di creare un progetto dalla base. È un'esperienza molto formativa perché permette un dialogo continuo che è uno degli aspetti fondamentali all'interno della radio tra tutti i vari reparti. Sono una sorta di medium tra una personalità radiofonica che va in onda e mette la propria anima e delle scelte editoriali di direzione che hanno le loro richieste e hanno bisogno di un tramite per farle andare in onda. Sono arrivato all'interno di questo gruppo proprio grazie all'esperienza del Master dell'edizione 2011-2012. È stata un'esperienza fondamentale perché mi ha permesso di conoscere a 360 gradi questo mondo musicale nel quale già avevo avuto modo di lavorare. ha creato consapevolezza in me delle mie possibilità e dei miei mezzi e coscienza di tutto ciò che vuol dire lavorare all'interno del mondo della musica, di tutto ciò che sono gli aspetti sia tecnici che professionali, professioni che prima ignoravo o che non credevo esistessero proprio. Mi consiglio di frequentare questo Master soprattutto a coloro che hanno una vocazione verso questo mondo che non è un mondo solo fatto di musica ma soprattutto di operatori seri che vedono la musica come un lavoro prima che come arte.